Premi sull'immagine relativa al supporto che desideri utilizzare. Inserisci il supporto come indicato. Per selezionare una foto, tocca l'immagine. Scegli se vuoi stampare un indice di tutte le foto, delle foto selezionate oppure nessun indice. Per selezionare una foto, tocca l'immagine. Seleziona la modifica da effettuare. Scegni il tema preferito con i pulsanti in alto. Seleziona la modifica da effettuare. Scegni il tema preferito con i pulsanti in alto. Seleziona la modifica da effettuare. Scegli se vuoi stampare un indice di tutte le foto, delle foto selezionate oppure nessun indice. Le tue foto sono in stampa. Attendele, prego. Sì. Sì, sì. Aspetta, è che sta uscendo tutta la foto. Scegli se vuoi stampare un indice di un indice di un indice di un indice di un indice. Grazie.